Esattamente che cos'è che avete fatto oggi Franco? Abbiamo deciso di organizzare un'esercitazione congiunta in modo di essere molto preparati in caso di collaborazione nella ricerca di persone disperse. Ecco in questo caso al Mottarone chi eravate, quante persone e quante forze c'erano? Siamo in circa 40 persone, siamo divise in vari gruppi, ci sono Soccorso Alpino Nazionale, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il SACS e poi ci sono i carabinieri. Praticamente è una ricerca che faremo con dei droni, sono delle esercitazioni che noi facciamo in preparazione ad un eventuale intervento. Nel caso specifico qui al Mottarone per questo tipo di preparazione simulate due interventi per capirci esattamente che cosa? Praticamente ci sono delle squadre che fanno delle ricerche cinofile con un disperso messo dentro in un ambiente di montagna e operano con il cane per cercare la persona che sia dispersa. Da un'altra parte noi andiamo in un canale dove c'è una parete di roccia dove un ragazzo è precipitato, cerchiamo con il drone, con l'aiuto del drone, di vedere il punto dove il ragazzo è precipitato. Ci trasformano, ci mandano delle coordinate del punto dove il ragazzo è precipitato e noi entriamo e facciamo il recupero della persona o con la barella o con l'elicottero anche perché oggi al Mottarone opera anche l'elicottero della Polizia di Stato. Abbiamo detto, poi c'è anche la Guardia di Finanza che ha un ruolo importantissimo in queste occasioni e nel soccorso in montagna, tantissime occasioni. L'Associazione Nazionale Carabinieri che è qui, che ci supporta grazie a Dio in caso di dirlo anche con mezzi altamente tecnologici, di cominciare dal drone. Che tipo di tecnologia utilizzate voi in queste occasioni? Noi in queste occasioni utilizziamo dei droni che hanno delle videocamere ad alta definizione per poter avere le immagini del territorio dove ci stiamo muovendo. Oltre a questo abbiamo anche dei droni sempre con delle videotermocamere interlacciate che ci permettono di avere sia la visione del terreno che l'esaltazione, quindi la visione, delle fonti di calore. In questo caso potrebbe essere appunto il disperso o un altro soggetto che comunque emana calore rispetto alla temperatura circostante.